Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Usta e oggi ragazzi siamo qui con questa mitica colonna Oggi ragazzi proverò a sfidare la gravità, in pratica mi dovrò attaccare con lo scotch attorno qua nella vita E voglio vedere se riuscirò tipo a rimanere senza toccare con i piedi e rimanere solamente attaccato con lo scotch E' ciò che dovrò provare Ho controllato prima ragazzi, lo scotch non c'è in casa perciò devo andarlo a comprare Quindi adesso mi preparo e andiamo a sto supermercato Ma prima di tutto ragazzi, che cosa vi sembro così? Vestite così? Non vi sembrano i formaggini Baby Bell? Perciò ragazzi adesso mi vado a preparare Ok siamo pronti per partire, andiamo Allora ragazzi adesso siamo arrivati al supermercato Noi siamo il team Codino Esatto, e c'è con noi pure I Turbi Agri Esattamente, e c'è il mitico tube qua Bella raga Ok Possiamo andare? E' un po' grande Va bene lo stesso Adesso ragazzi entreremo e io dovrò cercare Madonna ma che è sta cosa L'ho ascoltato, la taglia non è Esatto, e dovrò cercare lo scotch E quante quantità devo prendere? Un bel po' Scotch? Eh sì Dovrò prendere tanta tanta Siamo arrivati nel reparto scotch Ed è un vero schifo Guardate qua Costa un euro E non c'è niente Io volevo tipo quelli da pacchi Dove c'era tipo Non così ma c'era proprio tipo Una strada così enorme Cioè quanto dovrò spendere per fare sta cosa? Ok abbiamo trovato la scotch da pacchi E guardate quante ce n'è Cioè Ma te lo vendono già vuoto Ma questo qui è veramente un furco Perciò adesso cosa dovrò fare? Ne prenderò grande quantità E oh Pagherò ciò che dovrò pagare Non ci posso fare niente qua Cavolo Siamo a due Due Tre Quattro Cinque Sei Facciamo che proviamo con otto Ok Provo a prendere questi qua Poi il massimo Se non mi basterà Non ne prenderò altri chiaramente No Ma come facciamo adesso? No dai Stai su fratelli Io come faccio qua Devo vloggare oppure ho perso tube Sono riuscito a ritrovarli Oh tube dammi una mano qua Oddio mettilo qua Mettilo qua anche se liberò Ma what the Sono ne vedo Che giro è tono Elefante Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sotto Sotto Speriamo che mi regga Sennò ne dovrò prendere altre Eh Occio direi Ah lo spero proprio Dai vediamo vediamo Anche se tube ha detto che Secondo lui Tutti questi scotch qui Basteranno Secondo me Non so se possono bastare Porca di quella vacca Vabbè Manderò qualcun altro A prenderli al massimo Mentre io sarò Legato alla colonna Cioè mi toccherà aspettare anni Adesso andremo a pagare Missione compiuta Ce l'abbiamo fatta Adesso andiamo dritti Verso casa Siamo arrivati a casa ragazzi Io sono stra stanco E ho sete Guarda qua dentro Se con te Se il scotch bastano E la madonna Quanto hai speso 1,2,3,4,5,6 Secondo te è fattibile Madonna zia Ma qua ci fai in guerra Eh ma devo raggiungere 70 kg 8 scotch abbiamo Ce la facciamo con 8 Eh Così Sono già fai con 8 O è un video impegnativo Stai guardando il video Sì bravo Bellissimo Mi c'è tuve là Se cadevi per le scale Oscar Se cadevo per le scale Mi portava Allora ragazzi Adesso procediamo Ho messo Questi asciugamani Con un pochettino di scotch Così per non rovinare la colonna E l'unico problema È che se io adesso Mi attacco Inizia già lo scotch E poi io Scivolo Con l'asciugamano È un bel problema Però speriamo di no Adesso iniziamo Se negheremo così forte bro Che le cose non è che scivola questo O crolla la colonna O crolla il palazzo Perfetto E intanto ragazzi Tutti i rotoli di scotch Sono qua E si procede adesso Iniziamo Cadi Oh io stringo forte Io si spingo A volte mi gira la testa Stessa cosa sto con la mia Tipo su una tesla Secondo me ha comprato troppo scotch Ho tu bene Hai bene? Adio Ho fatto una cavolata Dai Sei in mezzo Dai VorreiSque per venire S vomettendo patrici Dai Vabbè Hai tappo i capelli via 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 no mi sono andati guarda ma che tanto tira guarda la testa bravo guarda che poco guarda via guarda che tanto tira fai così se fate le gambe se fate le gambe è raggi il sicuro perchè per i miei regli di io ho sempre fatto buona si sta gattando io ho diventato il sicuro ai beni bro ai beni aaaaaaah aaaaaah vai provate a prendermi non ci toglie fratellino mi sono aaaaaah tu quasi via siamo riusciti a scocciare us bella raga e noi mangiamo aaaaaah ricorda la madonna quando vengo gi- spara ci si- spara 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 eh bravo abbiamo qua eh fratello riesco più ad espirare a fare un amore a fare un amore con lo mondiale cosa? il primo uomo che torna attaccata la corona da metà in giù non sento più nulla ma tu devi capire una cosa tu ti stai evolvendo perchè da crisalide diventerai un c***o aaaaaah stava accendo la muta aaaaaah che pezzo di c***o ragazzi guardo la sirenetta basta parlare basta ragazzi se vi è piaciuto il video mettete un amore madonna quando è uscito giù vi scassano tutti quanti se scendi arriviamo a 20.000 like ragazzi per una nuova challenge ragazzi un commento magari e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video vieni qua ciao ragazzi oh non mi tagliarono eh davvero oh c***o oh mio dio dai sbrigati guarda che se si inceppa e cambi prima di testa sbrigati fra stai diventando una crisalide tieniti oh mio dio pussa tieniti si sta aprendo ai peli sbrigati eccolo dai vai va giù oh guarda ma lo tiene pochissimo mamma che spettacolo oh tienila che la usi per dormire guarda qua oh madonna guarda qui guarda qua sto pure sudando ciao ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao